Bene, grazie Tiziana Loconsole per aver interpretato questa felicità di Raffaella Carra, grazie, e soprattutto per aver interpretato, aperto, dato in là, alla seconda parte del mondo è piccolo. Allora, ospite in questo salotto, firmato Giannini Home Decor, il grande trombettista, ma soprattutto il grande amico Francesco Ariembe, che vado ad accogliere con un grande, grandissimo salto. Grazie, 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 anche perché è la terza volta che vengo. Non c'è due senza tre, ma chissà se ci sarà anche una quarta, ma chissà. Gli amici continueranno a seguirci per sapere se ci sarai quindi nella prossima puntata del mondo è piccolo. Vedi che bella compagnia che ti ho messo qui oggi in questo salotto, queste splendide piccoline. Che oggi stanno con noi, perché volevano, loro erano incuriositi, diceva ma chi è questo grande musicista, questo grande... Ho detto, venite, sentitevi con noi e sentiamo l'intervista di Francesco Ariembe. Anche perché poi l'ultima nostra intervista ha avuto un picco di visualizzazioni sui social. Sei un personaggio molto... Ah, porto fortuna allora. Porti fortuna, sei un raggio di sole, diciamo così, davvero. Grazie al pubblico anche. Eh, grazie al pubblico. Se ci segue il giovedì... Eh, assolutamente, sempre più numerosi, anzi, ringraziamo il pubblico, sempre più cospicuo. Allora, Francesco, sta per iniziare per te un periodo, insomma, turbolento, perché si apre proprio la stagione ufficialmente di matrimonio, fatta di matrimonio, prime comunioni, diciottetimi, arriva l'estate. Quest'anno è... Come stai messo? Bene, bene, perché già abbiamo incominciato le comunioni proprio della 28 aprile. Certo. Adesso le domeniche, chiaramente, fino al 2 giugno. Ha un valore aggiunto la tua musica, vero, nell'effetto? Sì, allora io sono un trombettista, anche se, diciamo, vanno a rubare i sessofonisti, i sax. Però nel momento in cui loro, invitati, vedono quello che suono, quello che faccio durante il matrimonio, incominciano a piacere la tromba oppure la mia performance che faccio ai matrimoni. Chi ti vuole invitare, chi ti vuole chiamare per una festa, allora ti trova sui social? Sì, sì, su YouTube, su Facebook, su Instagram. Alla pagina Francesco Ariemme. Francesco Ariemme, sì, sì. L'ho contattato e compatibilmente con i suoi impegni incastriamo una bella festa, perché lui, insomma, diventa poi l'anima della festa, che può essere, ripeto, un matrimonio, può essere una prima comunione, può essere un diciottesimo. Certo, qualsiasi evento musicale. Un battesimo. Abbiamo fatto il battesimo al nipotino, perché svegliamo agli amici telespettatori che da poco Francesco è diventato un'onimo. Francesco Ariemme Junior, un applauso. Infatti, si chiama Francesco Ariemme. Le mando un bacio a Francesco. Sì, sì, c'ha cinque mesi, il battesimo sarà il 23 giugno prossimo. Quindi sarà anche la parte musicale del battesimo del tuo dolce nipotino. Com'è questo Francesco Ariemme? È bravo, è capriccioso? No, no, è bravo, è prudentuoso, però è bravo per adesso, hai cinque mesi, però si comporta bene. Se vogliono farlo addormentare, oppure gli fanno ascoltare un po' la mia musica, vanno su YouTube. Si fidanza con la musica del nonno. Il bambino, Francesco, ascolta la tromba, sente qualcosa di vero. Perché dicevamo dietro le quinte, voi siete una famiglia di musicisti, nel senso che i tuoi ragazzi hanno seguito le orme del papà. Sì, c'ho il grande Luigi, è un trombettista, il secondo è un trombonista. Il grande poi per sette anni è stato sopra a Faenza con un gruppo Castellinapasi, è stato per sette anni, è poi ritornato giù. L'altro è un trombonista, è stato su però come cameriere barman e adesso è ritornato giù. Voi vivete tutti ad Orta Nuova? Sì, tutti a Orta Nuova. Quindi tutti ad Orta Nuova, amanti della musica, accomunati appunto dall'amore per la musica. E faccio il maestro della banda da 35 anni, pensa, a Sant'Agra di Puglia, un paese, lo spione della Puglia, Sant'Agra di Puglia. Ti voglio salutare tutti i bandisti, gli amici più che altro. Certo, salutiamo tutti i tuoi amici. Amici di Sant'Agra di Puglia. E quindi Francesco, dicevamo, ti piace immaginare un futuro in cui ci sia anche tuo nipote che ti affianca? Beh, sì, sarebbe proprio un quartetti reale. Anche perché tu sei un giovanissimo, non un giovane, un giovanissimo nonno. Beh, vabbè, fra vent'anni io... Eh, però sarebbe bello, dai. Vediamo se... Ma sicuramente poi quando si respira in una famiglia, in un clima familiare, l'amore per la famiglia, per la musica... Vedi, Andonella, i bambini proprio se nascono, cioè, non voglio mai insistere più di tanto, se i bambini nascono proprio queste intenzioni di ascoltare, di suonare... Certo. Cioè, devono scegliere loro lo strumento. Tu gli dai qualche indirizzo, però se loro vedi che non piace, è inutile insistere poi... Perché dopo due o tre anni lasciano tutto. Bisogna... E tu invece quando hai sentito in te lo stile? Allora, per entrambi, io a nove anni ho incominciato a suonare nella banda, e anche loro, nella banda Sant'Agri di Puglia, li portavo, però loro... Eh, papà, però poi mi stango. Poi hanno sentito l'odore dei soldini, ad un tratto non si stancavano più. Cioè, diventa anche un messire. E si diventa... Tutto parte da una passione, ma poi diventa un messire. Sì, è vero, è vero. Io, la cosa che voglio chiederti è, tu ti sei occupato sempre solo di musica o avevi un lavoro che poi nel corso della vita è abbandonato perché... Sì, allora, io per i primi anni ho vissuto solo di musica, poi mi sono sposato, ho lavorato in Fiat per trent'anni, sono due anni che mi sono licenziato, adesso vivo di musica. Secondo me, vivere del lavoro che tu fai, che ti piaci, è la cosa più bella che possa esistere. Perché ho sempre amato la musica, oltre al fatto di suonare, proprio che la musica, secondo me, fa vivere bene proprio la musica. È vero, oggi abbiamo parlato in questa puntata di vivere bene, no? Come vivere bene, quindi sicuramente seguendo quella che è una passione che si ha nel proprio cuore. È vero, è vero. Ma, visto che c'è questa passione, concludiamo ballando tutti insieme. Sì, magari, magari. Che pensi di concludere con un'intervista, ma no, allora facciamo così. Io adesso saluto e ringrazio gli amici sponsor che anche in questa puntata ci hanno sostenuto. Tu intanto ti vai a preparare, noi ci prepariamo per scatenarci, anche la Catellina vuole scatenarci, scatenarci con la tua splendida musica, quella di Francesco Ariemme. Io vado, eh. Grazie per essere stato qui con noi. Bene, dicevamo, allora, prima di concludere questa penultima, ahimè, puntata del Mondo è Piccolo, io voglio ringraziare tutti gli amici sponsor. Cominciamo con...